Il film parla di una donna, una musicista, che nell'arco di una giornata riesce a creare un nuovo sound. Si dedica a musica elettronica e con l'aiuto di un sintetizzatore di nuovi strumenti che ne vengono portati riesce, malgrado tutti cerchino di scoraggiarla, a creare questo nuovo sound. Io sono io stesso un musicista, sono il cofondatore di un gruppo che si chiama Nouvelle Vague, che peraltro ha suonato qui a Torino la settimana scorsa all'Hiroshima. Ho sempre desiderato realizzare un film e il film che ho scelto di fare è appunto sulla musica elettronica, in particolare sulla nascita di questo genere musicale a Parigi negli anni 70, perché, che sappia io, non è mai stato un soggetto di film la musica elettronica. È una domanda molto difficile, perché io amo tanti generi cinematografici diversi e non posso dire di avere avuto un cineasta di riferimento. Ho visto tantissimi film nella mia vita, amo molto anche il cinema italiano, ma non saprei indicare un autore o un film. Non so? Benvenuti, buonsoir Turin, sono molto contento di essere qui, in un festival del cinema, questo mio primo film e è veramente un honno per me, di essere da tutti questi generi di cinema, tutti questi realizzatori e questi produttori, quindi sono davvero contento di essere qui. Grazie.